In occasione della giornata europea del 112, il coordinamento dei collegi IPASVI, Federazione degli Infermieri del Piemonte, ha promosso una giornata di studio a Palazzo Lascaris sul numero unico europeo per le emergenze, che con 24 anni di ritardo è stato istituito anche in Italia. Il 112, da sempre riferimento dei carabinieri, sostituirà infatti i vecchi numeri di emergenza 113, 115 e 118, che rimarranno attivi ma convoglieranno su un'unica centrale operativa che coordinerà gli interventi di polizia, carabinieri, guardia di finanza, ambulanza sanitaria o vigili del fuoco.